ben ritrovate ben ritrovati a traguardi sport e territorio in emilia romagna il nuovo format di lepida tv siamo partiti a fine settembre appuntamento fisso ogni due settimane il venerdì alle 13 30 sul canale 80 tasto blu del telecomando dei vostri smart tv e sul sito sempre on demand lepida.tv traguardi è con voi vogliamo raccontare lo sport il territorio vogliamo raccontare le eccellenze lo sport sociale le piccole società sportive i grandi campioni i grandi eventi e anche tenere un occhio attento sulla tecnologia digitale e sull'aiuto che può dare allo sviluppo dell'attività motori e sportiva e l'ospite che abbiamo oggi robert fools ciao robert indimenticato giocatore di pallacanestro ex capitano della fortitudo e oggi sales director di team keys grazie grazie per invito un saluto a tutti che cos'è team keys e perché nasce questa esperienza allora team keys è un progetto nato tre anni fa dall'idea di un mio ex compagnia squadra nicolas crow abbiamo giocato insieme a imola mi ha coinvolto in questo progetto e piano piano siamo riusciti a creare finalmente una piattaforma molto interessante per tutte le società sportive professioniste e non l'idea è quella di andare a dare un servizio che potesse aiutarli a livello comunicativo all'interno della squadra con un prodotto professionale e dedicato creato da due giocatori come noi proprio per andare a evitare delle dinamiche che ormai sono assimilate come le uniche possibili in squadre anche di altissimo livello come condividere informazioni tramite applicazioni non dedicate oppure come usare ancora report cartacei nel 2023 che insomma quasi 23 che ormai mi sembra veramente assurdo senti l'esperienza di voi due come giocatori professionisti che si sono messi a lavorare a ricercare per lo sviluppo di questo applicativo sembra essere un valore aggiunto molto importante per la crescita di questo di questo progetto anche nei video nelle varie testimonianze di tanti giocatori c'è proprio una la percezione dell'utilità non solo per il team per i tecnici ma proprio per i giocatori di avere sempre a disposizione questi dati sì 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 assolutamente uno dei nostri claim è proprio from the players to the players proprio perché noi abbiamo la fortuna di essere due ex giocatori che hanno vissuto in prima persona tutte le dinamiche le problematiche legate alla comunicazione a tutti questi metodi un po antiquati e quindi grazie alla nostra esperienza abbiamo dato un'attenzione prevale prevalentemente proprio al giocatore a fare sì che il giocatore riceva tutto quello che gli serve prima di tutto per performare bene durante la settimana ma anche per continuare la sua crescita durante tutta la sua carriera quindi siamo sicuri che questo sia proprio il valore aggiunto rispetto a altre applicazioni magari create con ottimi con ottime idee però non create da persone insider come noi che veramente hanno vissuto sulla propria pelle tutti certi tipi di dinamiche problematiche voi siete una realtà radicatissima a bologna con un occhio insomma a diffondersi per l'italia per il mondo con grandi ambizioni avete cominciato due anni fa con questa versione beta adesso siete a uno stadio di sviluppo che vi permette di spiccare il volo mi racconti rapidamente di questi due anni di lavoro di progettazione di ricerca di verifiche di feedback come è andata ma sicuramente sono stati lunghi ma sono stati tutti necessari per fare sì derivare in questo momento e formarci anche noi perché io nicolas comunque essendo atleti non sapevamo bene come affacciarci nel mondo delle start up e capire quali fossero i passi giusti da da fare quindi all'inizio abbiamo creato con le nostre forze un po in maniera anche amatoriale questa prima versione chiamata team book grazie ai nostri contatti grazie comunque al prodotto che comunque era già funzionale abbiamo avuto feedback da tantissime squadre tanti tanti allenatori sia di a1 che di a2 quindi più 70 squadre in due anni già attivate e la raccolta di tutti questi feedback ha fatto sì e poi ovviamente l'ingresso di un importante investitore ha fatto sì di consentirci di realizzare team keys che proprio racchiude il primo step per racchiudere proprio tutto quello che abbiamo raccolto in due anni e fare sì di avere e di offrire già da quest'anno un prodotto che pensiamo essere veramente di altissimo livello alle squadre che vorranno provarlo e entrare nel mondo team keys e quindi prossimi step quali sono dopo due anni di testing e di raccolta dati siamo pronti ufficialmente a entrare prima nel mercato italiano che quello di competenza dove abbiamo più contatti quindi andare a ricontattare tutte le squadre che ci hanno già testato quindi per fare sì di avere la possibilità di testare questo nuovo prodotto che tra l'altro avrà anche le statistiche dei campionati direttamente inserite nel gestionale quindi delle funzioni ovviamente migliorative rispetto a quelle della versione passata e poi piano piano cercare di andare già con i contatti che abbiamo anche in altri campionati in Europa e piano piano vedere come risponderà il mercato palacanestro a questa a questa innovazione a questa applicazione che introdurremo nel futuro c'è anche l'idea quella di diventare comunque un multi sport perché comunque l'applicazione può essere adattata anche altri sport e poi chissà uscire anche dall'Europa abbiamo contatti anche in America siamo tutte e due con passaporto anche americano e quindi poi sognare si sogna in grande quindi vediamo un po dove ci porterà questa avventura dall'Emilia Romagna al mondo in bocca al lupo noi seguiremo chiaramente tanto grazie per essere stato qui con noi oggi a raccontarci di questo applicativo di questa esperienza di team kiss ma grazie a voi per l'invito per la possibilità di parlarne che per noi sempre un piacere enorme e noi continuiamo con i nostri viaggi per il territorio oggi andiamo a Bologna siamo andati a curiosare nella prima edizione dei giochi antirazzisti un contesto particolare in cui le regole del gioco vengono stravolte in qualche modo i campi stessi da rugby della prima periferia di Bologna vengono riattrezzati in maniera sicuramente inusuale andiamo a scoprire il tutto nel servizio con le immagini e le riprese e il montaggio di Domenico Parrino Allora questo è palla vinta al palio dei capitani il primo palio dei capitani che è stato fatto una stella rossa dovevi lanciare questa palla in un cerchio io avevo mai giocato a B prima quindi vabbè butti comunque ne ho fatti due del capitano maschile e quindi l'ho vinta il presidente mi ha fatto promettere di portarla sempre a qualsiasi evento in cui andasse la stella rossa quindi è sempre con me sono veramente delle regole particolari al di là che non c'è l'arbitro ma noi l'arbitro proprio non lo vogliamo e qui abbiamo un giudice di campo che nella maggior parte dei casi è un educatore chiaramente per stemperare la competizione la parte competitiva da noi si gioca a calcio come nel cortile ma senza la competizione con poca competizione con una competizione noi la chiamiamo competizione cooperativa si gioca insieme agli altri si condivide e le attività previste sono quelle del del calcio e giochiamo a basket giochiamo a pallavolo a 6 giochiamo a rugby giochiamo in questa casa 15 però è misto per cui giocano insieme maschi e femmine cerchiamo di di creare dei giochi che sono alla portata di tutti le squadre sono un'ottantina in generale vengono da varie realtà ci sono le cosiddette palestre popolari quelle che fanno lo sport popolare ci sono cooperative sociali gruppi di amici delle classiche ong affrontano e tematizzano molto le tematiche di genere la lotta al razzismo l'aspetto anche di carattere ambientale cioè garantire i diritti per tutte per tutti e di per sé si trovano tutte d'accordo anche nel utilizzare lo sport come strumento insomma per ridurre i conflitti che siano i conflitti tra le persone che siano i conflitti etnici di carattere discriminatorio ma che siano anche i conflitti bellici che attualmente in questo periodo troviamo spesso non solo sulle pagine dei giornali ma in me nella nella nostra quotidianità nelle guerre vicine a noi max nasce nel 2011 inizialmente da un gruppo di calciatori giocatori gay che non trovavano altre soluzioni si sentivano discriminati quindi si è voluto partire inizialmente come sport calcio all'omofobia poi negli anni abbiamo invece capito che singole battaglie non potono da nessuna parte e quindi abbiamo cominciato ad avere una squadra con ragazzi delle comunità di migranti stranieri soprattutto con ragazze ci dedichiamo molto al calcio misto quindi quel progetto iniziale si è trasformato in un progetto contro ogni forma di discriminazione il vero limite è quello di che si tende spesso l'autodiscriminazione all'auto isolamento da questo noi invece teniamo sempre a partecipare ai denti davvero per tutte e per tutti perché questo è l'unico obiettivo che abbiamo cioè non creare tante isole benché possono essere isole felici ma creare mi piace creare un intero continente la stella rossa rugby milano nasce nel 2007 il rugby è uno sport che porta i valori avanti i valori del del sostegno non è che c'è una persona singola che porta avanti la squadra è tutta la squadra che va a fare metano in stella rossa si è ben accettato in qualsiasi momento e siamo alla fine di questa seconda puntata di traguardi sport e territorio in emilia romagna come sempre però ci salutiamo con una serie di appuntamenti gli appuntamenti immancabili per gli appassionati di sport con i grandi eventi i migliori più interessanti che ci sono sul territorio dell'emilia romagna partiamo subito il 16 ottobre da parma la parma marathon un appuntamento che è imperdibile per tutti gli appassionati di corsa in un contesto favoloso dal 25 al 31 di ottobre invece ci si ritrova sul circuito di imola per le finali mondiali 2022 della ferrari l'appuntamento conclusivo della stagione della casa automobilistica di maranello e il 26 ottobre infine tutti a reggio emilia teatro valli l'incontro con le farfalle della ginnastica che proporranno al pubblico all'interno del butterfly symphony gala le loro acrobazie questa volta sul palco di un teatro con questo è tutto io vittorio martone vi saluto vi ringrazio per aver seguito traguardi ringrazio marco argese in regia insieme a tutti coloro che rendono possibile questo programma ci vediamo tra due settimane sempre il venerdì alle 13 e 30 con traguardi sport e territorio in emilia romagna buone cose grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti